Uno di quei personaggi della cultura musicale mondiale che hanno letteralmente rivoluzionato e portato tra l'altro a compimento la parabola del melodramma italiano. Stiamo parlando di Giacomo Puccini, che peraltro aveva non pochi scambi con D'Annunzio. Si parla molto di quest'opera mai nata, su cui hanno lavorato a lungo, ma che poi non ha portato ad una concreta collaborazione ed è una di quelle cose di cui parlo nel mio libro Puccini contro tutti, che presenterò questa sera.